gentili telespettatori buona giornata se ne è parlato poco ma mi sembra una cosa molto seria e da riflettere la meloni firma un accordo con l'ucraina aiuti militari e risposta rapida risposta rapida in che senso cioè che gli aiuti vengono mandati velocemente una risposta rapida no si parla di un altro tipo di risposta rapida molto più importante però in questo impegno si parla cooperazione in ambito industriale economica cooperazione per la difesa infrastrutture energetiche sostegno umanitario scambio su cyber security e intelligence la ricostruzione bene bravi bis ma c'è un altro punto molto più importante sentite per dieci anni in caso di un nuovo attacco all'ucraina l'italia si impegna alla collaborazione immediata e rafforzata con una risposta un meccanismo di risposta rapida delle forze armate italiane nell'arco di 24 ore per difendere l'ucraina sapete cosa vuol dire questo vuol dire che se fra cinque anni l'ucraina viene attaccata noi entriamo in guerra a fianco dell'ucraina entro 24 ore è una sorta di piccola nato italia ucraina è un'alleanza militare che ha che ha lo stesso valore di quella della nato sapete che la nato deve rispondere immediatamente se qualunque dei suoi paesi viene attaccato da un'altra nazione tutti i paesi della nato devono rispondere l'ucraina non è nella nato ma oggi con questo accordo chiev roma l'italia si impegna a una reazione rapida entro 24 ore una reazione militare se l'ucraina venga attaccata quindi un patto militare mi sembra un qualcosa decisamente azzardato o perlomeno un qualcosa di questo tipo deve passare credo dall'autorizzazione del parlamento ma autorizzazione o no del parlamento mi sembra un qualcosa di abbastanza e molto serio mettiamo che la guerra finisca quella che c'è fra un mese fra cinque anni immaginiamo che c'è un altro al posto di putin e decide che deve prendersi un'altra regione dell'ucraina quindi immaginate che fra cinque anni la russia di nuovo attacca l'ucraina e noi con il patto di intervento rapido in 24 ore dobbiamo rispondere militarmente contro la russia che è dotata di 10.000 testate nucleari montate su missili balistici intercontinentali vi sembra vi sembra un qualcosa che possiamo definire intelligente potremmo essere spazzati via in 20 minuti massimo da un attacco termonucleare io quando ho letto questa notizia sono rimasto sconcertato assolutamente senza parole però sembrerebbe che questo non abbia smosso più di tanto né a destra né a sinistra ho visto qualche articolo sui giornali forse ancora la notizia è talmente grave che nel torpore tra chiara ferragni fedez e i manifestanti che prendono a calci la polizia ancora non si è capito l'importanza di questa di questa notizia naturalmente bisognerà poi vedere in caso davvero l'ucraina venga attaccata tra 5 anni 6 anni 7 anni davvero se l'italia possa reagire rapidamente in 24 ore e entrare in una guerra senza che ci sia appunto l'autorizzazione da parte del presidente della repubblica che assume il comando supremo delle forze armate e poi lo sapete che poi in caso di guerra il presidente della repubblica deve affidare il comando delle operazioni aeronavali terrestri al presidente del consiglio che diventa effettivamente a tutti gli effetti il comandante operativo delle operazioni militari su tutti i fronti ma ci vuole l'autorizzazione del parlamento a me questa cosa qui di questo accordo mi sembra una cosa così assurda che che non riesco a capacitarmi di questo e non riesco neanche a capacitarmi del silenzio che c'è a destra e a sinistra non so voi che cosa pensate di questo probabilmente è una notizia che non ha trovato poi grande risalto sui giornali forse credono che è un accordo così di facciata giusto per giusto per dire ma attenzione che mi sembra una sorta di patto atlantico in miniatura tra due stati dove noi siamo vincolati a intervenire un qualcosa del genere con un vincolo di questo tipo era successo tanti anni fa all'inizio del secolo scorso l'italia aveva proprio fatto un patto di questo tipo adesso non sto a raccontarvi perché è storia sembra quasi che è già sembra quasi tra il sembra quasi è la differenza è molto sottile roba da merda grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti